Salve a tutti ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video di RhymeKind Bene, siamo al cimitero che dobbiamo battere un po' di gente Vanno messi alla prova per crescere Sì sì, cresci questo, cresci Adesso guarda che ti roba che ti faccio Ma ti sfondo il culo, insomma sì Allora vediamo di prendere... oh, non ho fatto critico È un problema che il critico sia sceso così tanto Dobbiamo cercare in qualche modo Era quello che meritavano Dobbiamo prendere item più potenti assolutamente Veloce, come la vendetta Adesso facciamo il secondo round Beh, questi si batteranno bene Come ho detto Allora facciamo così, e così siamo a posto, vai Davvero niente male Questi si batteranno che la meraviglia esce, beh sì E' fatto anche la mancata Vai, questa è andata Andiamo qua Ci tolgono, eh, perché non è che non ci tolgono Però... Potrei abituarmi ad avere alleati Ottimo intuito Perfetto Devi distruggerli Povero chiamo Io non mi rialzerei Allora Direi che ce l'abbiamo fatta bene Sono un insegnante Bilgewater imparerà Benissimo, vediamo cosa ci dà Pochissimo Però comunque ci dà roba che ci interessa La cosa che più mi premi Poi per adesso Non era questo che volevo fare Ma andare a fare la missione Ce ne sono due addirittura Quindi insomma sì È una cosa molto positiva Eccetera Cintinti C'erano tutti di là 25 qua Se arriviamo a 30 Forse scappano, eh Però bisogna arrivarci 30 Quello è il problema di base Arrivarci Ok, questa è andata Lui Come la prima volta Ma penso che non ci sia neanche bisogno di fare Cose particolari Che dobbiamo farci Lo stesso Troppo facile Infatti È andata Ah, non ho fatto critico È come facile È come difficile Fare i calcoli senza sapere effettivamente il danno Abbiamo finito Facciamo però Però Mi ha dato tanta roba Eh Mi ha dato tanta roba Interessante Io spero di riuscire a usare finalmente quei incantamenti finali Perché Ce ne sono alcuni che sono veramente bestiali E dobbiamo ancora sbloccare alcuni E quindi vorrei farlo Il sentiero che percorro è bloccato Quindi sì Ok, questa è andata Non do una letta ogni tanto, eh Cercherò ancora Come altrimenti durano veramente pochi secondi Sono contento Allora, vediamo un po' Devo andare giù Ancora giù Cerchiamo di prendere il più possibili So che possono sembrare noiosi Ma servono Perché io non posso fare incantamenti Se no Purtroppo c'è un incantamento Che si può Non vedo nessun impegno Sbloccare solo qua Giudizio Riusciremo a sbloccarlo Passo a sentire la paura Come la prima volta Vivo per la battaglia Cerchiamo di farlo unico con l'intelligenza Però Con Eh, non ce l'ho fatta Quanto mi pancava Per cui mi stanno Qualca miseria E vabbè Questo è destino Era quello che meritavano Cavoli Scusate Scusate Sbagliato Mi sono fatto perdere la panica Ok, questa è andata Evviva Ah, ma questo Abbiamo vinto Come cacciare Vabbè Vabbè È andato qui Mamma mia Eh, vedete Sono pezzi importanti questi Adesso ci dà poco di esperienza Ma ci interessa relativamente All'esperienza noi Perché noi vogliamo fare altro adesso Sì, volevamo arrivare a 30 Questa è una cosa che Sicuramente voglio fare Ok Due combattimenti Un combattimento 15 Mi conosceranno presto Fa Viacere per te Sbagli come una volpe Benissimo Vai Come la prima volta Mamma mia Quanto danno esagerato Che mi faccio Ma io penso che Dobbiamo aver vinto Ok Devi distruggerli Piena vita Non c'è nulla Che può frenarmi Eh no Stavolta non c'è altro Niente di che Vabbè Faremo Lo stesso Io voglio andare a vedere Eh, adesso Purtroppo ci sono i combattimenti Enervanti Però Stavolta C'è il tà Chi è che ha più vita di tutti Accogliete il movimento Dei fetentoni Questi qua Oh Cavolo Trovi più di mille Lei eh Non è poco È così che si fa Ma io proverei Non serve Lo so Che non serve Però A tutti i nemici Non gli uso mai Le abilità Usiamo Insomma Perfetto Devi distruggerli Andata Nessuna gioia Nella vittoria Purtroppo non ci ha follato Però dai Mi sono divertito lo stesso Oh Questo è interessante Questo è interessante Vediamo un po' Un Elsa Mamma mia Abbiamo preso un 27 qui Dopo si guarda Allora L'Elsa Non lo vedo Che sia D'incantamento Qualcosa del genere Può essere Potrebbe essere Una roba D'incantamento Però non la vedo Sono ceccato Vero? Eh Probabilmente sì Avete ragione tutti Ah no è qua Oh Deve essere un amuleto Allora interessante L'amuleto Elsa Qua No Scusate Sbagliato Eh Non ce la faccio Eh no Mi toglie tanto Ci la posso far diventare Più potente Però insomma Non lo so Pensavo meglio Sapete Allora Mettiamo a bravo Questo Perché mi sembra Molto meglio Questo Per rapidità Non lo so Ci devo un po' Pensare Allora Andiamo di qua Insomma Siamo questo Piano piano Devo trovare Altri di livello 30 Devo arrivare a livello 30 Se no Non serve a molto Se arrivo a livello 30 Dove fare più danni Però Quello che mi preoccupa Che Omar Hai combattuto bene Fanno troppi danni Sono ferita Decisamente Troppi danni Voi cosa dite? Non è troppo Il danno che ci ha fatto? Vai Non posso Ah beh Vai a fa culo Vai Eh che cazzo Magari nella prossima vita Se scappassi Ah Fuga fallita Ma sei un figlio di troia Te l'ha detto mai Tua sorella? No Te lo dico io Ma che cazzo Eh Poca miseria C'è una roba del genere È proprio da stronzi Allora Vediamo un po' Eh È fatto molto Fatto Dai Allora 2000 E proviamoci così È troppo potente È veramente Prorompente È Cavolo Ci vuole Ci vuole Cercavo di ammazzare subito Quello là Segui la luce Sembra un'altra cosa Sembra una cosa semplice Cioè Fa troppo danno Troppo facile Cioè Quando attacca lui È una roba devastante Ok Eh cavoli Nagakaburo Se ci sorride Eh Spera che faccia la sbaccarata Perché qui si abbessi malo Eh Qualca miseria Ok Ah era lui Ecco perché era così forte Eh che cazzo Mi sembrava strano È toccato Una potenza così esageratica È fuori dal normalo Eh 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 che cazzo Quindi dobbiamo andare di là Per andare di là Devo andare qua E che c'è l'altro Quell'altra quest Quindi Vediamo se riusciamo a farcela Mi sembrava Stava che fosse troppo forte Ma porca miserica Ma che cazzo è questa roba Esageratica E quindi Il vento è la mia guida Ne mancherebbe uno Non lo so Perfetto Posso sentire la paura Andata Era quello che meritavano Ai 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 Lui è anche invisibile Vabbè Ci ha pensato I miei tentacoli Benissimo Perfetto Perfetto Un colpo notevole Ottimo Ah direi che Non c'è tanto scappo Perfetto Il tacco Gli hanno fatto loro che Che cazzo è successo Ce la sei proprio cercata Porca troia Quello è un alleato E 5.000 E 4 turni Che non è male Per carità Cazzo Ho paura Ho tanta paura Aspettavo Questo momento Pronti ad affrontare La dea Beh Mi è andato malissimo Ah pensavo peggio È così che si fa Cavoli Mi sono preso un colpo Per un minuto Ok Questa Niente di che Allora dove dovevamo andare giù Benissimo Andiamo pure a vedere Questa è forte 25 C'è un 29 Vero Però io non lo vedo neanche Da quanto è grosso quello C'è lo stesso Avete capito C'è paura Io C'è 30.000 Io penso Che ci farà un male Atomico Eh lo immaginavo Ok Ok Un'andata Segui il flusso Flusso canalizzatore Ok Giochi a fare il morto Porca troia Sto perdendo Essenza Non Mi piace Ciò che vedo Ok Un'andata Evviva Te la sei proprio cercata Ce la posso fare Forse Vediamo Scompare Non ci dimenticheremo Di te Ok Io vivo per questo Ci provo Speriamo bene Non è andata malissimo Ma neanche benissimo Hai la stessa forza Di una lumaca marina Capicele per te Nulla di serio Forse Non riesco a concentrarmi E' perché tocca Veloce Come la vendetta Grazie A cazzo Grazie Porca miseria Un'altra cicatrice Il vento Mi sfugge 8000 Era quello Che meritavano Ci spaccherà Il culo Io ve lo dico Subito Però dai Non manca Tanto Mi serve Un goccio Ok Non abbandonare La tua Mamma mia Sudato Il vento È pronto È così Che si fa Oh salve signore Buongiorno Non ha pazienza Un matello Leggendario Che cura Sarà Leggendario Dai C'è dato un cazzo Però di Di altro E questo Non era neanche Quello che doveva Cidere Impossibile All'equipaggiamento Comunque era 27 Questo era bello Però Porca vacca Era 27 Che cazzo è 27 Questo Perdo tanto di critico Guadagno Mille di vita Che non è male Però Vabbè È non comune Io posso potenziarlo Potenziandolo Devo provare Corazza spirituale Proviamo potenzialo Vediamo che succede Incantamento Allora Questo qua Spirituale Ecco qua Anche questo Non sarebbe male Qui ce ne abbiamo Sì ce ne abbiamo Tanti Vai Ok Spiritualo Sarebbe meglio Anche questo Perché insomma Però non so chi ce l'ha Non ce l'ha nessuno Allora cosa fa Ecco così Proviamo Vediamo E che succede Allora adesso vediamo Se equipaggiandolo A lei Era lei Cosa fa Mille nove Perdiamo sempre Critico tanto Però ragazzi Lei critico Il cazzo me ne frega Scusate È la rapidità Che mi interessa Quindi io andrei di questo Poi Incantamento Armatura Rigenerazione Che non sarebbe male Però non possiamo farla Quindi niente Rigenerazione Uno Forse Tranquillità Questo lo possiamo fare Cosa fa No Questo non mi interessa Aumenta la difesa magica No Aumenta l'indice di evasione Ecco E non sarebbe malo Che quasi quasi Lo farei Che l'indice di evasione È meglio Quindi Questo facciamo così Questo facciamo a 10 Questo facciamo così E questi qua Ah questo è il massimo Quindi facciamo così Tanti saluti Vai Direi che Così mi piace tanto Va bene Proviamo così L'ho equipaggiata Sì Gliel'ho messa Gliel'ho messa Vero Perché sto avendo dubbio Gliel'ho messa Sì Allora Fatemi vedere Ho fatto Ho fatta la quest Però non me l'ha segnata Ah quindi mancano due Quindi lo sono Nel santuario Va bene Questo è il cimitero Ah torna la bacheca A posto Me l'ha segnato Allora io adesso Vado Via E ci vediamo Fra poco Ed eccoci Arrivati Big water Vediamo un po' Beach water Insomma Cazzo si chiama Beach No beach Vabbè Quello che è Vediamo cosa succede Questa qui cosa ci dà Oh 25 E una cosa epica 25 Probabilità di colpire Sul colpo Di curare L'alleato Più ferito Di 600 Di salute Cazzo che figata È di livello 25 Mi ha dato tanto Ah c'è anche questa Oh leggendaria Amuletta del metallo Mamma mia Quante belle cose Ci guardiamo subito Scusate Quaggiamento Questo Che ci dà Resistenza Non è che il suo genere Forgiata Con un metallo raro Che stando Alle leggende Cadute dal cielo Allora Non ci dà niente A parte la resistenza Tanta vita in più Però non mi interessa Per il momento Sto pensando A lei ad esempio È molto importante Io gliela metterei Alla grande Ok Poi andrei da questo Che c'era L'altro Che mi sono completamente Invedicato Che cazzo ho preso Però è buono anche quello Però non mi ricordo più Che cazzo ho preso Sempre Qualcosa Questo ok Ed epica Noi abbiamo sempre 25 Tanto critico in meno Poca rapidità Quasi niente E meno vita Però Cura 600 Che è poco Lo so È un bel problema Che ci abbia dato il 25 Mi interessava Per carità Però Abbiamo solo ricercato Ragazzi Il livello 26 Quindi se abbiamo fatto questo Il livello 27 Quello era il mosto marino Abbiamo fatto questo Il livello 25 Il livello 26 Possiamo quasi non farcela Dove si trova E ci dà Cosa ci dà Uno scudo Un orologio di round Cosa potete scudersi Vedremo Vedremo Allora vediamo intanto Mi sono ricoglionito Sì mi sono ricoglionito Allora vediamo un po' Questo Purtroppo non ho capito Dov'è Ed è un problema Nelle isole dell'ombra Ok L'unico sovrapposito Ha chiamato Guerrero L'Erdos Ok C'è scritto sopra Scusate Sono proprio incoglionito Quindi questo è l'oceano L'oceano profondo Proviamo a far questa Speriamo bene Allora intanto l'oceano è qua Insomma non è che posso Dire qualcosa E qua e qua E poco da dire E l'unica Allora più di tutto Riposiamo perché Per l'amor di Dio Una bella riposata Adesso Vedo dove andare Le prossime episodi le facciamo Perché non c'è niente da dire O poco da fare Insomma Qui non è che ci dice Ci illumina In qualche modo Vero Non ci dice un cazzo Quindi io se facessi così Mi fai vedere qualcosa Non mi fai vedere un cazzo Anche se la missione È selezionata No non è selezionata Scusate Sono sempre risolto Di coglionito E non c'è un cazzo da fare Allora Questo 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 Qui non è Se io vandassi qua Non è neanche qua Quindi non ne ho minima idea Di dove cazzo possa essere Quindi Lo scopriremo Solo a vivente Beh sì Vabbè Profondo Paros Potete che sia qua O c'era Ok È qua Benissimo Adesso Noi ci salutiamo qua Per questo video è tutto Vite come al solito Anche il commento Ci piaccia di farmi Sapete Se ne pensate E poi adesso vedete Salute la cima Ciao ciao